questo cartello lui non parla la nostra lega quindi non ho dato a conoscere parla la manuta, parla la matata e ha spiegato che questo quadro che abbiamo portato è la rappresentazione della barrucchia di San Raimondo dell'antico Egitto adesso vi chiedo questo è scritto di sopra ha detto che di sopra c'è scritto il nome del santo della barrucchia dell'antico Egitto era San Raimosse adesso gli chiediamo lui che si chiama si chiama si chiama Ransete e si domanda quando lui vuole l'acqua che cosa chiede alla mamma dice che quando ha sete lui dice ho Ransete ma questa zona questa zona come era c'era il deserto nell'antico Egitto ha detto che era tutto deserto qui però aveva il suo ministro dell'agricoltura che gli curava il giardino chissà come si chiamava il suo ministro dell'agricoltura si chiamava Ransete era tutto secco ma l'ultimo mi chiede a chi davo mi hanno chiesto ma che cos'è quel 64 che sta qui davanti noi lo vediamo ah dice che quel 64 era il numero civico di via della pedale dei terrati che passavano qui davanti lui c'era la parola mi saranno i vostri grazie al parola ah una cosa abbiamo poi anche questo parole monia vuoi venire parole monia anche a cui faremo una domanda per capire ho detto se è monia sarà morto si effettivamente dice che è morto per un incidente stradale come le con tutta la sua vega ma come si chiama si chiama sotto al cambio che c'era Grazie